Critiche sul nuovo piano industriale della Ruzzoreti, approvato sabato dall'Assemblea dei Sindaci, arrivano dal Movimento 5 Stelle di Teramo. Il consigliere comunale Fabio Berardini, infatti, attacca il sindaco Brucchi per aver votato a favore di un provvedimento che vedrà un aumento delle tariffe dell'acqua in media del 6,5%. Questa è una cosa veramente assurda, in quanto è proprio il Ruzzoreti che è stato utilizzato come uno stipendificio negli ultimi anni e anziché cambiare modo di amministrare, il sindaco di Teramo vota favorevolmente all'assunzione di nuove persone ed è un aumento medio per le famiglie terramane della bolletta dell'acqua del 6,5%. Quindi, continuando questa governance di stipendificio, ci deve veramente spiegare perché ha votato a favore e soprattutto ci deve spiegare se nella città di Teramo saranno previste nuove tasse nel prossimo bilancio di previsione del 2015 e come sappiamo essere in grossa difficoltà, tutto questo potrà portare sicuramente una mazzata definitiva e letale alle famiglie terramane che sono già in grave crisi finanziaria. Questo è veramente assurdo e ripetiamo che vogliamo sapere le motivazioni di questa scelta politica del sindaco Brucchi. La questione Ruzzo quindi tornerà sui banchi del Consiglio Comunale? Sicuramente chiediamo spiegazioni, le chiederemo in tutte le sedi e anche in Consiglio Comunale e vogliamo avere delle risposte puntuali e politiche dal sindaco Brucchi e da tutta la sua maggioranza.